Montevarchi super con il 3-0 liquida anche la Lattigiana. Rossoblu che allungano in classifica e quest'anno sembra l'anno buono per salire in Serie D. La cronaca. Montevarchi prende subito le reddine del gioco e a 14 giro Sorbini messo giù in aria da Caroti e calcio di rigore. Dal dischetto Sossi porta in vantaggio il Rossoblu. Ancora Sossi con pallonetto cerca di superare Eletti. Intorno al trentasettesimo il primo a fondo ospite girata di Di Tommaso ma a livellare non si fa sorprendere. Minuti di recupero, bella azione del Montevarchi con il Sossi, tocco di Sorbini e raddoppio. Il secondo tempo si apre con gli ospiti pericolosi, pallone di viato in angolo. La partita in mano in Montevarchi, calcio viatore ai monaci e il risultato è fissato sul 3-0. Su fine di partita il Sossi cerca il poker, missile sopra la traversa.